Sulla manifestazione che ha avuto luogo ieri mattina presso il palazzo di città di Licata, circa la richiesta da parte dei dipendenti del Dipartimento Urbanistica e Gestione del Territorio del Luogo di risolvere lo stato di precarietà in cui versano i loro uffici, anche i cittadini hanno manifestato la loro solidarietà, nonostante, a quanto dicono, sarebbe stato opportuno che la protesta a queste situazioni avverse fosse iniziata tanto tempo fa. Io mi pongo la domanda, ma a che pro questa manifestazione contro l'amministrazione comunale di Graci che è in cattività a San Leone, che in questo momento abbiamo saputo che sta facendo una gita, una crociera a spese dei cittadini di Licata, ma io sono scettico, questa manifestazione a che senso ha? La protesta verso l'amministrazione comunale? Ma ditemi un po' voi dell'ufficio urbanistico, come mai avete accettato il trasferimento già all'epoca della sindacatura a Bionti, che vi ha mandato in un ovile? Quindi io non capisco per quale motivo e anche altri due anni siete rimasti lì, in quell'immobile fatiscente, senza servizi, senza certificato di abitabilità o di sanità da parte del responsabile dell'ufficio sanitario. Adesso dopo 4 anni fate questa dimostrazione, questo sciopero, che ripeto è legittimo la vostra richiesta di organizzarvi, di fare uno sciopero in confronto dell'amministrazione, ma non si capisce effettivamente per quale motivo voi a sto tempo vi siete trasferiti, non avete contestato questo trasferimento. Voi dovevate opporvi a questo trasferimento e quindi risolvere anzitempo il vostro problema e quindi creare meno disagi alla città delicata, ai suoi utenti, agli artigiani edili, a tutta la città. Ecco perché io non capisco e non comprendo questo stato di agitazione verso chi lo fate, verso l'amministrazione comunale che non c'è, che non esiste, che il vostro sindaco se la spassa tranquillamente stando fuori in crociera, il mio pensiero è il pensiero del cittadino comune, nel senso che ritiene legittima la vostra protesta, ma da parte mia non ritengo che state facendo bene perché avesse dovuto fare le vostre rimostanze prima di trasferirvi in quella immobile fatiscente. Opinioni differenti tra il popolo licatese, nonché problematiche diverse, ma nonostante tutto il fine comune, ossia la ricerca di soluzioni a questioni paradossali e intollerabili. Grazie.